Abbiamo ribadito la nostra disponibilità alla sottoscrizione del famoso protocollo d'intesa con cui noi ci impegniamo a fare il contratto preliminare dettagliato, ma il Comune deve rilasciare l'autorizzazione con delibera di consiglio, dato che l'argomento è di competenza consigliare, trattandosi di bene immobile, ma ad oggi il Comune non ha deliberato nulla. Così il Presidente della provincia dell'Aquila Antonio Del Corvo e la vice Antonella Di Nino che sulla questione del liceo classico video annunciano l'intenzione di avviare finalmente il recupero della storica sede di Piazza 20 Settembre. Nei giorni scorsi si è svolta una riunione tra Comune e provincia per concordare gli spostamenti ed è stato deciso l'utilizzo per quest'anno dei locali dell'ex Croce Rossa quale soluzione per il classico. Entrambi gli enti sono d'accordo ad accelerare i tempi per agevolare anche la riapertura della biblioteca comunale Ovidio. L'ok della provincia c'è, ma non si sa ancora quando far partire i lavori alla struttura inagibile dopo il sisma del 2009. Bisogna giungere alla sottoscrizione del protocollo di intesa, ma la provincia attende ancora la delibera del Consiglio Comunale di Sulmona, essenziale per il rilascio dell'autorizzazione. Del Corvo e Di Nino ne approfittano per dire che è assolutamente falso che la provincia dell'Aquila ha deciso in autonomia il da farsi.